La Giunta regionale ha deciso su proposta dell'assessore della sanità Luigi Arru la ripartizione di 1 milione di euro, 700 mila sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e 300 mila sul bilancio regionale, come contributo a copertura delle spese per il 2016 sostenute dagli enti gestori degli 8 centri antiviolenza e delle 5 case di accoglienza. I centri antiviolenza svolgono attività di tutela legale, di affiancamento, di consulenza psicologica e sociale e aiuti concreti per sottrarre le donne dal contesto di violenza e di pericolo. Le case di accoglienza offrono ospitalità temporanee e sostengono donne in condizioni di disagio a causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia assieme ai loro figli minori. Le risorse saranno distribuite per il 70% alle case di accoglienza e il restante 30 pari a 300 mila euro ai centri antiviolenza. L'importo sarà lo stesso per tutti i centri ma è prevista una maggiorazione del 50% per quelli titolari di ulteriori sedi operative. Mai critico il senatore del gruppo misto Luciano Uras si è arrivati quasi a dimezzare i fondi destinati in pochi anni all'organizzazione e al funzionamento dei centri antiviolenza. La replica però arriva immediata dall'assessorato regionale della sanità. Le risorse previste nella delibera approvata dalla giunta, un milione di euro, vanno aggiunte ai 900 mila euro del fondo nazionale assegnati alla regione e per il trasferimento dei quali si attende il decreto ministeriale. Questa somma è destinata alla copertura delle spese sostenute dai centri antiviolenza nel 2015-2016, precisano. Quindi i centri avranno ancora più risorse rispetto allo scorso anno, potendo disporre di 1.450.000 euro per le spese del 2016 e di altri 450.000 euro per quelle del 2015.